Fratelli e sorelle, benvenuti alla Porzuncola. Per chi viene dalle varie parti d'Italia o anche fuori dall'Italia, la Porzuncola è il luogo che Francesco di Assisi considerava più caro, considerava il suo tesoro, perché qui, diceva Francesco, qui la misericordia di Dio si è manifestata e si manifesterà per sempre. E per chi invece frequenta abitualmente il santuario, sentitevi sempre a casa, accolti. Questa parola è la terza domenica che Gesù vuole soffermarci, farci proprio sostare durante la domenica in queste parabole. Vuole raccontarci che cos'è il Regno dei Cieli. Non so cosa tu pensi, però quando tu ascolti il Regno dei Cieli pensi quello che verrà, qualcosa di distante, qualcosa ma un giorno sarà diverso rispetto a quello che è qui, la vita di tutti i giorni. No. Per Gesù il Regno dei Cieli invece è qualcosa che è già inaugurato da quando lui si è incarnato, dal suo Natale, il Regno dei Cieli è qui, in mezzo a noi. Ed è molto bello perché per queste tre domeniche lui ha cercato, attraverso le parabole, di descriverci questa realtà. Quest'oggi ci dice in modo bellissimo che cos'è il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è un tesoro. Che cosa nella nostra immaginazione suscita questa parola? A chi stai dicendo sei il mio tesoro? Il Regno dei Cieli è una perla. Una perla è qualcosa di estremamente bello, che è molto diverso dalla bigiotteria. Se hai la possibilità di mettere un filo di perle, scegli quella, non una bigiotteria. E poi dice, il Regno dei Cieli è simile a una pesca abbondante. Ci fa bene un po' di mare, anche se è lontano da noi. Una buona pesca abbondante, quindi un buon piatto di pesce. Vedi Gesù, per descrivere qualcosa di estremamente, ci sembra lontano, usa delle immagini preziosissime. Il Regno dei Cieli, quindi, è qualcosa che mette gioia nel cuore. E questa è la prima bella notizia, dentro, a volte, la fatica di tante notizie. Il Regno dei Cieli è qualcosa che porta gioia, mette un desiderio di movimento. Ti sarà successo quando succede qualcosa e che dice, dai, ripartiamo, ricominciamo. Il Regno dei Cieli, quindi, ci parla di un Dio che sorride. Un Dio che sorride e che fa sorridere. Pensate che bello, a volte abbiamo un'immagine di un Dio così, a volte, appesantito. No, ci dice che il Regno dei Cieli porta la gioia, anzi, una gioia piena. Quindi il Regno dei Cieli porta quella che noi cerchiamo, che tutti desideriamo, la felicità. Ma non è la felicità dell'entusiasmo, di qualcosa che svanisce, dura quanto, che ne so, con un'immagine, una Coca-Cola fresca, appena aperta, con le bollicine. La bevi dopo cinque giorni, è disgustosa. L'entusiasmo. Questo, siamo pieni di entusiasmo. Ma il Regno dei Cieli non è nemmeno, dicevo all'inizio, qualcosa che devi aspettare perché verrà un giorno, intanto sacrifichiamoci, intanto facciamo sacrifici perché... No, dice il Regno dei Cieli, dice Gesù, è una relazione. E questo è molto interessante perché ogni domenica l'appuntamento con Dio, o chi viene alla messa tutti i giorni, è sempre per cercare di nutrire che cosa? Il Regno dei Cieli è la relazione con una persona viva, con Gesù. Allora, noi vogliamo questa gioia, noi la vogliamo, la felicità. Ma state attenti, se pensate bene, noi non vogliamo la felicità, noi vogliamo il motivo per cui essere felici. Tutti ci vogliono vendere cose a basso prezzo, bigiotteria, ma tu cerchi il tesoro, tu vuoi la perla. E la perla è sempre il motivo per cui noi ci alziamo tutte le mattine, per cui noi facciamo sacrifici anche la notte, per chi ami. Allora, c'è una domanda importante nelle letture che abbiamo ascoltato quest'oggi. Nella prima lettura c'è questo giovane uomo, Salomone. E Dio rivolge a questo giovane uomo, Salomone, al quale è stato dato un importante compito, quello di governare un popolo numeroso. Dio gli dice, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Perché, vi dicevo, il regno dei cieli è una relazione? Perché noi siamo spesso abituati a dire al Signore, Signore che cosa vuoi da me, Signore cosa vuoi che io faccia. Qui ci dice un altro aspetto e lo capiremo bene nelle letture. C'è un Dio che ti dice, tu che cosa vuoi? Non tu chiedere a Dio cosa vuoi da me, ma è Dio che chiede a te, chiede a me quest'oggi, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Tu cosa gli chiederesti oggi? Salomone fa una richiesta molto interessante che piace molto a Dio. Non gli chiede ricchezza, non gli chiede di annientare i suoi nemici, di vincere i suoi nemici. Non gli chiede cose che finiscono. Gli chiede una realtà molto importante e che cerchiamo di capire attraverso le parabole che Gesù racconta. A un certo punto Gesù racconta, per dirci del Regno dei Cieli, queste tre parabole. Perché utilizza le parabole Gesù? Perché la parabola è una storia semplice ma con un significato profondo. Una storia semplice che possono capire anche i bambini, ma che ha un significato profondo. Per esempio la prima parabola è proprio questa. Dice che il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Considerate che non c'erano quei tempi le banche. Per cui quando tu avevi qualcosa di prezioso andavi, cercavi un posto sicuro e lo nascondevi sottoterra. Cosa accade? Un uomo, un contadino, sta lavorando quel campo e trova un tesoro. Stupore, gioia immensa. Che cosa fa? Dove sta la sapienza? Vende tutto quello che ha, quel contadino, per acquistare quel campo. Perché quello non è più solo un campo. Quello è il campo con un tesoro. Che cosa significa per noi? Significa concretamente quando una persona, tua moglie, tuo marito, sono diventati per te quel campo da comprare. Perché in quella persona che ami, che amavi, che ami, hai trovato il tesoro. Quella non era più una donna tra le tante, era la tua donna, era tua moglie. Lo stesso per il marito, per noi consacrati. Quando abbiamo colto che non era più semplicemente una relazione quella con Dio, ma era una relazione totalizzante. Allora dove sta la sapienza? La sapienza qui è accorgerti che c'è un momento nel quale quel tesoro prende tutto il tuo cuore, ti ha conquistato. Ecco perché il regno dei cieli è una relazione. Qual è quella relazione che è diventata così totalizzante nella tua vita? Che ti ha fatto dire alla persona forse che è accanto, noi a Dio, al servizio che facciamo, tu sei il mio tesoro. Il problema è quando tua moglie e tuo marito, invece di restare un tesoro, diventano un peso. Quando la relazione anche con Dio non è più un tesoro, ma un dovere. Ecco dov'è la sapienza. È tenere la relazione dentro a quel dono grande che Dio ti ha fatto all'inizio e che va continuamente nutrito. Perché le cose, le relazioni, se noi non le nutriamo, si spengono. Se noi le relazioni non le frequentiamo, non ci prendiamo cura, quella relazione diventa un peso, un dovere. Ancora un'altra immagine, la perla. Un uomo che sta trafficando, sta lavorando perché fa il mercante di perle. A un certo punto è alla ricerca della perla più preziosa. La trova. Quella perla di grande valore va, vende tutti i suoi averi e la compra. O così anche il pesce, una pesca abbondante, separano i pesci buoni dai pesci cattivi. Dov'è la sapienza? La sapienza è imparare a distinguere. Quello che il Vangelo dice, o meglio la prima lettura dice, imparare a discernere. Fratelli, la sapienza è accorgerci che una relazione non vale l'altra. Una realtà, un tesoro, non vale l'altro. È molto diverso la perla dalla bigiotteria. È molto diverso un pesce buono, buono da gustare, da un pesce che ti fa star male. Dov'è la sapienza? La sapienza è imparare a distinguere ciò che veramente vale, ciò che conta. Provate a pensare. Quale regno stiamo alimentando nella nostra vita? Il regno dei cieli di un Dio bello, di una relazione bella con Lui? O stiamo cercando di alimentare tesori fasulli? Che poveri ci trovano e più poveri ci lasciano. Restiamo nella lamentela. E tu vedi gli altri magari nella gioia? E a te questa gioia sembra sempre così lontana e distante. Quest'oggi il Signore ci vuole fare un grande dono. Chiedere anche noi il dono di saper distinguere. Perché nella vita chi non distingue confonde. Chi non sa distinguere i tesori, i pesci buoni da quelli cattivi, la perla dalla bigiotteria, un campo qualunque da un campo con dentro il tesoro, il rischio grande che non sperimenterà quella gioia. Ecco perché allora il Signore ci viene incontro dicendo impara a chiedere la sapienza. Sai perché? Perché la sapienza dà sapore a ciò che tu hai. La sapienza non è sapere tante cose. La sapienza è un dono dello spirito. La sapienza è avere gusto in ciò che fai tutti i giorni. Ecco perché Gesù conclude le parabole dicendo lo scriba, cioè l'uomo della legge, quello che fa sempre tutto giusto, l'uomo del dovere, lo scriba una volta che ha trovato la perla, una volta che ha imparato la sapienza, lo scriba che cosa fa? Da scriba diventa discepolo e il discepolo è chi ha una relazione bella con Dio, è chi sa stare in relazione con Dio perché sa che tu sei per Dio la cosa più preziosa che ha. Fratelli e sorelle, non ve lo dimenticate mai che tu sei la perla preziosa per Dio, tu sei il suo tesoro, lui ha dato il suo figlio, ha permesso che il suo figlio morisse per avere te, perla preziosa, tesoro unico e continuamente te lo ripeterà. Ecco perché allora essere uomini, donne e sapienti significa sentire che Dio ascoltare, che Dio ti dice chiedimi ciò che vuoi e io te lo concedo. e Dio dirà alla fine del brano della sapienza, ecco faccio secondo le tue parole. Dio guarda che ti ascolta, ma se tu chiedi cose piccole, ma com'è possibile che trattiamo Dio chiedendogli cose piccole? A Dio tu devi chiedere grandi cose e il discepolo, diventando discepolo, lo scriba diventando discepolo, sa trarre dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Che cosa significa? Che Dio non è che le cose vecchie le butta via, assolutamente, ma sa dare un sapore nuovo alle cose che fai ogni giorno, alla cura delle cose di ogni giorno, quell'amore che hai vicino, che forse di... Sai quante volte ho sentito padre è vero, mio marito, mia moglie, è diventato un peso, prima era il mio tesoro, adesso è un peso, ma forse non è che devi fare il passaggio da quelle cose vecchie che sono diventate un peso ridargli quella sapienza, quel sapore che in realtà ti ha conquistato il cuore, che in realtà ti ha fatto fare anche dei sacrifici perché ne valeva non la pena, ne valeva la gioia. Allora, per concludere, facciamo attenzioni. La bellezza di queste parabole del Regno dei Cieli è proprio questa, che tu sei la perla preziosa per Dio, ma lui è anche la perla preziosa per te. Lui ti dice, tu sei il mio tesoro, ma anche tu gli dici a lui, adesso, in questa Eucaristia, tu, Signore, sei il mio tesoro. Sai qual è la gioia? E' che quando un amore è vero è sempre reciproco, quando un tesoro è vero arricchisce a te, ma lui è contento di farsi scoprire da te. Allora chiediamo a Dio Padre davvero che non ci stanchiamo di cercare, di cercare le cose grandi, le cose belle, le cose preziose, in un'estate che forse è anche molto particolare, in un'estate che forse non c'è la gioia che ci saremmo aspettati, forse non è proprio il momento di ascoltare la domanda che Dio ti fa. Che cosa mi chiedi? Però tratta Dio da Dio, non chiedergli cose piccole, perché restiamo con una fede piccola, con un amore piccolo, con una speranza piccola. Ora tra poco qui sull'altare ci sarà l'Eucaristia, che è il tesoro della Chiesa, è il tesoro più prezioso che ha insieme allo Spirito. Allora questo tesoro, lasciati rivolgere la domanda, che cosa mi chiedi? Perché Dio te lo conceda, perché lo vuole concedere. Tra pochi giorni noi qui celebreremo la porzuncola, il perdono di Assisi. e Francesco qui dentro si sentirà chiedere da Dio, Francesco, che cosa vuoi? Che cosa vuoi? E lui non chiederà nulla per sé. E chiedendo la misericordia per tutti, dopo 800 anni, siamo qui ancora a godere dei Suoi benefici. che il Signore ci dia la sapienza della bellezza e della verità. Grazie. Grazie.